Tazzo pazzo che schimazzo?! Naa naa Tazzo pazzo che schimazzo walks he Walker Vai 2 Io ho vinto Che te ha detto mi hai vinto scusa3 Prova Tazzo pazzo che schimazzo Ciao ragazze e ciao ragazzi bentornati sul canale, oggi in un nuovo video c'è una super ospite, Giobotti, Giobini, Giobineschi e come sempre volevo dire che c'è un video challenge, questa volta che video facciamo? Che challenge facciamo? Cazza pazza che schiumazza in realtà io non sapevo l'esistenza di questa challenge però un giorno ero fuori e mia sorella mi manda questa cosa dicendomi ah guarda sono uscite, la tozza pazza che schiumazza e allora proviamo allora ci sono quattro gusti, io ho qua fragola che mi fa schifo quindi non proverai te questa, cioè in realtà mi piacciono le fragole però la fragola artificiale no, mi dispiace, poi c'è questo che invece è arancia e poi poi c'è questo che è limone e coca cola ok in cosa consiste la challenge? Nel bere da una tazza del WC si non è molto molto bella come immagine, comunque sono delle tazze di WC in cui ti metti questa polverina ci metti l'acqua mescoli, la schiuma cioè questa polverina a fuoricire te la devi bere prima che fuoriesca del tutto vince chi riesce a berla prima che fuoriesca, ok? quindi questo è il senso, ora scegliamo i gusti che ti prendi questa perché io non la voglio, e questa, e io prendo le sue, cioè non si potrebbero farlo prima poi a te non ti piace? guarda il limone, se ti piace quindi ora noi montiamo queste tazze del WC e poi inizia la challenge a te non ti piace allora iniziamo, io inizio con limone e te con... arancia allora ora dobbiamo aprire queste bustine qua, metterne mezza, giusto? ok metterne mezza e poi aggiungerci l'acqua che abbiamo qua dentro, ok? vedremo che andrà a finire sta cosa metà metà, giusto? quanto ci ho capito a metà? buh buona io ne ho messo più di metà preparati già la cannuccia mi ha ancora un po' sarà così? si basta sarà così? mi sa che io non mi sto prendendo più di freddo ora metto un altro po' va? pronta? si via e questo è già iniziano ok ma fa schifo c'è buona però vizia mi vedo mi vedo mi vedo è tipo di mi vedo mi vedo e vai una volta in tanto hai vincolo nella mia vita soddisfatta eheh soddisfatta eheh 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 soddisfatta mi fa schifo si poi rimane sotto qua nella la guardia eheh comunque uno a zero si sei pronta che sia un round si nulla è perduto passiamo alla seconda tazza del wc o al cesso per più fine dire wc wc al wc allora pronta coca cola e tè? cragola cragola dai cragola ce la fai ecco dove sta? ok buona questa è buona sembra la goleador bello il tuo bucci nero vero eh? sì più figo ok pronta? si uno due tre e via c'è un altro poi io non ce la metto però vedo pizzi voi oddio eè ce n'è ancora di? sì vabbè hai vinto si mi ha fallito di tutte però mi ha dato tutte nel naso una a uno quindi c'ho niente come la copa? possiamo farne un altro non quello è rimasto mi dai l'arancia? aspetta dov'è? qui perché la fragola mi rifiuto e vediamo qui che cavolo c'era un botto buttiamolo tutto buttiamolo tutto pronta uno due tre via un bel po' d'acqua ci va messo perché se no non si scioglie udio mi sta torcendo porto di te lascia vincere mamma mia ho vinto e niente allora ho vinto io quindi ci toccherà fare un'altra challenge ma tanto ne abbiamo altre in servo giusto? da fare tanto se vincerai sì ce la farai abbattere me perché io sono invincibile ma tu sei di fuori stai bene no di niente noi vi mandiamo un grande voce e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto tin 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 ho vinto ho vinto io ti batto sono queste cagate qua però ho vinto ho vinto ho vinto la tua faccia finisce l'indelito ho vinto finisce con